L'impostazione data a questa ricostruzione non funziona, non funziona perché si è iniziato male e si sta continuando peggio. Così il sindaco di Visso Giuliano Pazzaglini descrive quella che dovrebbe essere la fase 2 dopo l'emergenza, dopo il sisma di agosto e ottobre, rispetto alle difficoltà, a quanto pare, di capire chi deve fare cosa mentre il tempo passa. D'altronde lo stesso commissario per la ricostruzione Vasco Errani in diretta tv, dopo le schermaglie nelle riunioni passate con qualche scintilla finita sui giornali, annuncia la necessità di cambiare l'organizzazione. Secondo il sindaco di Visso, pronto a far ripartire il suo borgo da bandiera arancione, riportando in paese al più presto le persone costrette sulla costa, bisogna cambiare modello. Binari giusti significa che la regione controlla e i comuni eseguono, non viceversa come ci è stato chiesto l'altro ieri, per cui noi dovremmo fare le schede Edes e poi l'ufficio speciale per la ricostruzione in carica per la realizzazione. L'esempio più lampante, che sarebbe grottesco se non fosse vero, riguarda le stalle. Dopo sei mesi di immobilismo si è incaricato il Consorzio Bonifica che conferisce l'incarica ad un'impresa senza nemmeno effettuare una progettazione, questa è un'assurdità totale. Cominciamo a far partire una ricostruzione sul modello del 97 che ha dimostrato di essere uno dei migliori in Italia. Magari correggiamolo nelle parti che non andavano, però recuperiamolo, perché a me sembra che sia stato buttato il bambino, l'acqua sporca, ma purtroppo con loro anche le nostre comunità. Visto ha fornito il numero per le soluzioni abitative provvisorie, circa 220 casette, ma il numero è fluido, dice ancora, ma il timore di sbagliare rischia di bloccare la ripartenza. Si sta gestendo questa ricostruzione come se tutti gli amministratori pubblici fossero dei delinquenti da tenere sotto strettissimo controllo. Io non devo essere terrorizzato da questo margine errore che mi potrebbe portare a dover spiegare alla Corte dei Conti del perché ho ordinato tre strutture in più. È assurdo, però questo sta bloccando la ricostruzione. Intanto è stata rinviata al 6 marzo la riunione tra il commissario Errani e i comuni terremotati delle Marche prevista a Macerata. Il commissario auspica però, parlando in TV, un'articolazione diversa degli uffici della ricostruzione a livello provinciale per avere un rapporto più diretto con i territori. Per Fermo sarà abbastanza semplice perché il numero dei soggetti è comunque limitato. Anche per Ascoli tutto sommato gestibile, ma a Macerata valuteremo. Può darsi che a un certo punto dovremo decidere di andare addirittura su ambiti più piccoli. Ma per noi significa triplicare ogni volta gli incontri e si diventa un ambito più piccolo per quadruplicare gli incontri sul calo regionale. I ritardi sono relativi, dice ancora Ceriscioli, che assicura ad esempio che tutte le fatture pagabili per gli albergatori della costa che ospitano gli sfollati sono state saldate. Il ritardo, dice, forse per mancanza di comunicazione adeguata, le richieste, appena 20, quelle pervenute agli uffici, per la ricostruzione privata. 20 richieste di ricostruzione leggera, che è un numero bassissimo e significante. E' quello che deve fare il cittadino con il suo tecnico che presenta la pratica.